Torino, Roma e per il sud Italia Sciacca e Castelvetrano sono questi i luoghi scelti per festeggiare a livello nazionale i 40 anni di Unitre, l'università della terza età fondata nel 1982 nel capoluogo piemontese. Si tratta di un prestigioso riconoscimento, l'inserimento di Sciacca tra le tappe dei festeggiamenti che premia la preziosa attività portata avanti in questi quattro anni dal presidente della locale sede di Unitre Alberto Sutera e da tutto il direttivo. Questa festa dei 40 anni non arriva così per caso a Sciacca e Castelvetrano. È frutto di un apprezzamento, di un riconoscimento dell'attività che abbiamo fatto come Unitre in questi anni. Anche se la pandemia ci ha costretti a vivere quasi in isolamento, quindi a livello locale non siamo stati abbastanza visibili perché non abbiamo fatto più le nostre attività didattiche in presenza, ma le abbiamo fatte attraverso il web. Diciamo che questa nuova attività, quindi noi siamo stati in grado di trasformare le difficoltà in opportunità. Tanto è vero che l'anno scorso, sempre con questa nostra attività didattica, ci sono state le elezioni dell'Unitre nazionale e abbiamo avuto come riconoscimento la mia elezione a consigliere nazionale per intanto. Quest'anno, un altro anno di attività, sempre poco visibile nel territorio locale, ma visibile su tutto il territorio nazionale, siamo riusciti ad avere questa festa dei 40 anni. Ci abbiamo lavorato un poco, però il nazionale ci ha dato fiducia e ha investito molto su di noi. C'è da evidenziare che questa festa dei 40 anni in Sicilia, dei 40 anni, si svolge, il nazionale ha individuato tre siti a livello nazionale per dove svolgere gli eventi. Uno è stato Torino, che è la sede dove è nata l'Unitre e si è svolta nel aprile scorso. L'altro sito, Roma, il terzo sito, Sciacca Castelvetrano, quindi per farvi capire l'importanza di questa festa fatta su questo nostro territorio e su questa nostra bellissima isola. La tappa di Sciacca Castelvetrano, in programma dal 23 al 25 settembre, sarà un viaggio tra i prodotti tipici del territorio e l'immenso patrimonio artistico e culturale delle due città. Noi come Unitre di Sciacca ci siamo gemellati subito con Castelvetrano per allargare la partecipazione delle Unitre, quindi il gemellaggio ha portato a questo tipo di cose. Ed è organizzata in due modi particolari, alcuni eventi si svolgeranno a Sciacca, altri eventi si svolgeranno a Castelvetrano. A Sciacca si svolgeranno due eventi in particolare, nell'arco della mattinata del 24 settembre, ed è un percorso del centro storico, dove faremo visitare il centro storico, riforneremo in alcuni musei che si trovano, tipo quello di Ocesano che si trova al centro, si trova accanto alla matrice, in modo tale che le persone che verranno potranno conoscere questo nostro territorio, perché noi la prima occupazione, una delle nostre prime attività è quella di promuovere il nostro territorio locale. Diciamo che sta avendo una vasta eco, perché già abbiamo ricevuto le adesioni e abbiamo tantissime adesioni che provengono da Milano, da Roma, da Lecce, diciamo già c'è ancora le adesioni che sono state aperte in questi giorni e quindi già c'è una buona adesione, e anche dalla parte del territorio delle Uni3 della Sicilia. I festeggiamenti per i 40 anni dell'Università della Terza Età vogliono anche rappresentare il momento della ripartenza e della ripresa di tutte le attività dopo due anni segnati dalla pandemia. Questo evento come sottotitolo lo chiamerei come l'evento del rilancio dell'Uni3, non solo quello nostro locale, ma a livello di tutto il territorio nazionale. Questo dovrebbe essere l'occasione di farci conoscere, apprezzare ancora di più da parte del territorio locale e farci vedere e notare anche a livello nazionale sempre ancora di più. Quindi ci stiamo impegnando a far sì che questo evento riesca nel migliore modo possibile. Grazie a tutti.